Va dato merito a questi ragazzi, 82 punti sono tanti perché dimostrano che si è lavorato bene. Mi dispiace perché ho visto attaccare l'Inter in maniera brutta, attacchi gratuiti per i calciatori, attacchi gratuiti per me. Questo non mi è piaciuto anche perché ho visto poca protezione da parte del club da questo punto di vista. Detto questo ci siamo compattati ancora di più, siamo diventati ancora più forti e oggi ce lo gustiamo noi, io e i calciatori, con tutto il rispetto per gli altri, ma ce lo gustiamo noi che lavoriamo da piano alla pinetina, questi 82 punti, anche se non significa niente perché come ho detto chi vince rimane scritto no nella storia, però questo è un buon risultato perché si viene da tanti anni dove i punti erano tanti. Grazie. Grazie.